Buongiorno a tutti, il mio nome è Fabrizio Longo, lavoro per il servizio protezione civile della città metropolitana di Torino. Oggi parleremo di protezione civile, in particolare questa lezione sarà suddivisa in due parti, una prima parte che riguarderà la previsione e i disciplinari meteorologici e una seconda parte che riguarderà il sistema dell'artamento ma in particolare il sistema di protezione civile a supporto dei comuni della città metropolitana di Torino. Dobbiamo allora parlare in primo di che cosa sia la protezione civile. Esso è un sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze dell'attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, da cosa? Dai danni e dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Quali sono allora le specifiche attività attribuite al sistema nazionale della protezione civile? Quattro sono fondamentali, previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Oggi parleremo della previsione. La previsione comprende tutte quelle attività dirette alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla individuazione dei rischi e alla delimitazione del territorio interessato dal rischio. Tra le varie attività di previsione troviamo quelle legate ai fenomeni meteorologici disciplinati sia a livello nazionale che regionale. In particolare la Regione Piemonte, a partire dal 2004, anno in cui è stata approvata la direttiva Bertolaso, ha successivamente con varie versioni approvato diversi disciplinari sul sistema di allerta meteoregionale e in particolare l'anno scorso, nel 2018, è stato approvato e aggiornato l'ultima versione del disciplinare meteoregionale che è entrato in vigore il primo dicembre. Esso regolamenta appunto il sistema di allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile. Esso è stato presentato a tutti i sindaci dei comuni del territorio metropolitano il giorno 6 novembre 2018 presso la sede della città metropolitana di Torino. Che funzioni svolge il sistema di allertamento? Svolge tre funzioni essenziali connesse tra di loro. La previsione della situazione meteo, idrogeologica, idraulica e valanghiva e la valutazione della criticità sul territorio espresse in modo univoco in termini di allerta. Due, l'attivazione di fasi operative dei piani di protezione civile finalizzate alla gestione degli eventi e emergenze di protezione civile. Tre, la comunicazione tra i soggetti istituzionali, non istituzionali e i cittadini, al fine di mettere in atto le azioni previste nei piani di emergenza di protezione civile e le corrette norme di comportamento finalizzate all'autoprotezione. L'insieme di queste tre funzioni si sviluppa in due fasi temporali distinte successive. In primo, una fase previsionale che è costituita dalla valutazione sostenuta da un'adeguata modellistica numerica della situazione attesa, nonché degli effetti che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente. A questa fase, che ricorre anticipatamente all'evento, corrisponde l'attivazione di azioni di prevenzione volte alla riduzione e mitigazione del possibile danno e alla preparazione della gestione di eventuali situazioni di emergenza in riferimento alla pianificazione di protezione civile. Una seconda fase di monitoraggio e solveglianza, invece, articolata in osservazione qualitativa e quantitativa, strumentale e diretta sul territorio, dell'evento in atto e due, la previsione a breve dei relativi effetti attraverso il no casting meteorologico, quindi previsione a brevissima scadenza e o modelli a flussi e deflussi inizializzati da misure raccolte in tempo reale. Per quanto riguarda la fase di previsione, il monitoraggio è molto importante. Nelle varie fasi operative occorrevi sia un soggetto, presso la sala operativa del comune, centro operativo comunale, che sia in grado di leggere i dati che provengono dal territorio, dati di monitoraggio delle stazioni meteo. Le risorse disponibili sul web, da cui fonte Arpa Piemonte e il centro funzionale, sono indicate in questi tre link. Quali sono allora i prodotti, gli output principali della fase previsionale? Innanzitutto il bollettino di vigilanza meteorologica, il bollettino di allerta e il bollettino valanghe, che è specifico per gli operatori di montagna. Le previsioni avvengono su delle aree di allerta sul territorio regionale. Cosa sono? Sono aree predefinite del territorio regionale, costituite da aggregazioni di ambiti territoriali comunali e caratterizzati da una risposta meteorologica e idrologica omogenea in occasione dell'insorgenza del rischio. Le aree, per quanto riguarda il territorio della città metropolitane, sono così suddivise, da nord a sud, B. Val Chiusella, C. Valliorco, Lanzo, Bassa, Val di Susa e Val Sangone, D. Alta Val di Susa, Vallichisone, Pellice e Po, I. Pianura settentrionale, L. Pianura torinese e colline, M. Pianura cuneese. Per quanto riguarda le subaree di allerta valanghe, cioè quelle utilizzate nel bollettino valanghe sono tre, da nord a sud, B. V. Ex. Alpi Appennine, indicate col precedente disciplinare, C. V. Ex. Alpi Graie e D. V. Ex. Alpi Cozie Nord. Esse sono utilizzate appunto nel bollettino valanghe che viene emesso da inizio dicembre a fine maggio di ogni anno. Il bollettino di vigilanza meteo è il secondo prodotto. Esso è quasi esclusivamente caratteri informativo, e allineato con quanto realizzato a livello nazionale, fenomeni significativi, ha la possibilità di riferirsi ad una fenomologia ampia, a delle scadenze temporali più a lungo termine, a una forma iconografica tale da differenziarlo dalle previsioni meteorologiche testuali. Viene diffuso via web anche in forma dinamica con l'uso della grafica e dei colori. Ha tre scadenze temporali, 12 più 24 più 48 ore, e le aree di vigilanza coincidono con le aree di allertamento. Il nuovo bollettino di vigilanza appunto presentato lo scorso anno comprende una serie di fenomeni considerati, tra cui l'intensità delle precipitazioni, che dal colore più chiaro al colore blu scuro indica l'abbondanza delle precipitazioni, e poi sono indicati diversi fenomeni, fenomeni temporaleschi, neve, le anomalie termiche, le gelate, il vento e la nebbia. Il bollettino di allerta invece è il prodotto più importante, quello che viene emanato poi vedremo ai comuni, ed è un unico bollettino che raggruppa il rischio idrogeologico, idraulico e nivologico. Adotta un termine di allerta che è sempre associato ai colori. L'associazione bionivoca tra i livelli di criticità, ordinari, elevata, moderata del vecchio bollettino, ora è associata ai colori di allerta giallo, arancione e rosso. La valutazione della criticità è uguale alla valutazione degli effetti per singola area di allertamento. Il nuovo bollettino di allerta regionale è emesso, come sempre, alle ore 13 di ogni giorno. Sono presenti delle allerte specifiche per ogni giornata, con l'indicazione del livello di allerta massimo sull'area. Quindi avremo una prima parte del bollettino in cui ci sarà la previsione dalle ore 13 in avanti per le prossime 12 ore, quindi il pomeriggio, e una seconda colonna con l'indicazione delle allerte per domani, per le prossime 24 ore. Per quanto riguarda il bollettino di allerta, esso, come dicevamo, è distinto in base alle aree di allerta e presenta diversi livelli di allerta con diversi colori. Il verde, che presenta l'assenza di fenomeni significativi prevedibili, il giallo, fenomeni localizzati, l'arancione, fenomeni diffusi e il rosso, numerosi e estesi fenomeni. Qui siamo nel caso di un'alluvione conclamata. Alcune annotazioni sugli scenari di rischio. Gli scenari di riferimento o scenari di evento sono relativi agli effetti e i danni presenti sul territorio. Gli scenari predefiniti individuati a livello nazionale sono progressivi e integrabili. Inoltre, il codice colore verde, nessuna allerta, non indica che possono essere esclusi eventi ed effetti e danni sul territorio. Inoltre, è stato introdotto in effetti e danni specifici dovuti a fenomeni temporalesti una certa incertezza. Per quanto riguarda gli scenari di rischio, abbiamo diverse categorie. Neve, per effetti indotti sul territorio dal superamento di livelli nivometrici critici, previsti e monitorati sui settori montuosi, collinari e di pianura, interessati da insediamenti e viabilità. Valanghe. Il rischio valanghe corrisponde agli effetti indotti sul territorio da fenomeni di instabilità del manto nevoso, che si verificano in particolari condizioni nivometrologiche e che possono giungere ad interessare il territorio antropizzato. Idrogeologico per temporali, rischio cioè derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati da elevate incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e intensità, forte intensità puntuale e rapidità di evoluzione dei fenomeni. Idraulico, per esempio gli allagamenti. Idrogeologico, per esempio frane e dissesti. Il bollettino piene è un prodotto presente nel disciplinare che è finalizzato alla gestione delle piene e dei deflussi a supporto del centro regionale di coordinamento tecnico-idraulico e dell'unità di comando e controllo del bacino del fiume Po. Le valutazioni sono effettuate sulla base di previsione dei modelli idrologici ed idraulici disponibili presso il centro funzionale. Esso viene emesso solamente entro le ore 13 dei giorni feriali ed entro le ore 13 di tutti i giorni nel caso di allerta arancione o rossa per rischio idrogeologico ed idraulico. Infine la comunicazione della fase operativa, di cui parleremo più avanti. La comunicazione viene fatta sul sito web istituzionale della città metropolitana di Torino nella sezione protezione civile. Vedrete i codici colore previsti per oggi e domani e in basso la fase operativa in cui si trova attualmente la città metropolitana di Torino. Infine la comunicazione per l'invio del bollettino. Il bollettino di allerta viene inviato ai comuni della città metropolitana tramite quattro canali, un canale fax, un canale mail, un canale sms e un messaggio vocale. Vi ricordiamo infine di aggiornare le schede anagrafiche dei comuni. Adesso seguirà la seconda presentazione del collega Francesco Vitale. Grazie.